Don Ivanov, Carlo Lucarelli al servizio, Rottaviano, parte Lucarelli, servizio piazzato sul nastro, Giuliani salva, Donzella in palleggio, Gonzales in attacco, la ricezione ancora di Lucarelli deve palleggiare male, l'attacco ancora di Pizzichini di prima, Donzella in palleggio, deve palleggiare ancora Giuliani, l'attacco di Gonzales è piazzato, è preciso, vale il punto numero 24. seguito da 6 set point per la Go Energy Volley Corigliano Rossano. Carlo, tanti set point a disposizione per la Go Energy che ha giocato meglio in questo primo set. Sì, è vero, la Go Energy ha saputo essere molto molto concentrata in questo primo set, troppe sbavature invece da parte della squadra ospite, questo ha fatto la differenza e fa avere 6 set point per la squadra di casa. E Gonzales lo va subito a concretizzare, 25 al 18 si chiude il primo set, 1 a 0 per la Go Energy Volley in favore della Gisottaviano.